È partita proprio qui dalle Risorgive la settimana della Green Week che si concluderà nel fine settimana proprio a Parma. Qui alle Risorgive abbiamo avuto come ospite il professor Jan Lundqvist, accademico di Svezia, che ci ha presentato l'ultimo libro, La Tempesta Perfetta, che parla di cosa? La scarsità d'acqua, di cibo, dell'incremento demografico nel mondo e tutti i problemi conseguenti. Una meditazione interessante che abbiamo avuto l'onore di ospitare e che in qualche modo suggella anche il percorso che Viacqua ha fatto in questi anni all'insegna della transizione e di un nuovo ruolo della società dell'idrico integrato.